Una situazione politica complessa, difficile, la vicinanza a Mattarella in questo momento, perché? È vicinanza secondo me al popolo italiano, è soggezione alla Carta Costituzionale e quindi vicinanza a chi in questo momento non da me né da altri è incaricato di essere il custode, il garante della Costituzione, della Carta Costituzionale. Abbiamo una nazione e un popolo che ha tante esigenze, ha tante belle speranze, tante grandi aspettative e non possono essere frustrate queste aspettative e queste speranze da questioni che molto spesso fanno fatica a trovare grande giustificazione. Alla fine è proprio la gente comune, il popolo che ne paga le conseguenze? Io penso che in fin dei conti, in situazioni come queste, la fatica più grossa a capire prima di tutto e poi soprattutto a sopportare il peso di quello che sta avvenendo sia la gente, sia quella che non capisce perché non si possa dare risposta subito alle loro istanze, ai loro problemi, alle loro domande. Cosa auspica la Chiesa italiana? Ma auspico quello che il Presidente Bassetti ha già detto più volte, cioè che ci possa essere la volontà di ricucire, una volontà di ricostruire, una volontà di ripartire su basi meno conflittuali, veramente guardando al bene comune. Grazie. 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 Grazie.